Musica Prendono il via oggi gli interventi per la messa in sicurezza dell'edificio colpito dal crollo al ridosso del lungomare. Per offrire assistenza e informazioni ai cittadini sgomberati, il Comune di Napoli ha attivato nei giorni scorsi un'unità di crisi presso la sede dei vigili urbani in via Riviera di Chiaia 105. Il presidio sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 8 alle 14. È contattabile telefonicamente allo 081-795-2832. L'amministrazione è al lavoro per rendere operativo dai prossimi giorni anche un servizio di accompagnamento scolastico dalle strutture ricettive. Entrano in fase di preesercizio i varchi telematici nella zona dei baretti di Chiaia. Per i prossimi 30 giorni l'accesso all'aria sarà presidiato ancora dalla Polizia Municipale. Saranno poi elevate in automatico, con l'ausilio degli occhi elettronici, le sanzioni previste per gli eventuali trasgressori. La ZTL Belle Donne Martiri Poerio sarà in vigore 24 ore su 24 anche per i motoveicoli. Dal lunedì 18 marzo scatta il controllo telematico degli accessi all'area pedonale anche per il Borgo Marinari. Dallo scorso fine settimana la SIA ha ripreso la raccolta di farmaci scaduti presso tutte le farmacie della città. Dopo le difficoltà che hanno causato la temporanea sospensione del servizio, l'azienda è al lavoro per il recupero delle giacenze accumulate e ripristinare il regolare svolgimento del servizio. Su richiesta di alcuni esercenti la SIA provvederà quanto prima anche alla sostituzione dei contenitori danneggiati. Il Comune di Napoli contribuisce alla ricostruzione di città della scienza con l'attivazione del numero solidale 45599. Fino al 31 marzo si potrà sostenere la raccolta fondi donando un euro attraverso SMS oppure due euro con chiamata da rete fissa. Mauvi la scocci e spedare la raccoltaijdsona. e non chiamate il grasso offerto un todote perché! Grazie a tutti e per un po' stripare! Dull phones sembra delleakinака che, Grazie.